buon ciao a tutti oggi non sono da sola saluta oggi ci accingiamo a percorrere il sentiero 12 ed un pezzo del sentiero 2 dei colli uganei siamo partiti capitello di sant'antonio località cinto uganeo adesso stiamo andando in discesa siamo un po cioè a partenza in discesa vabbè era meglio stare in salita visto siamo più carichi comunque ok e basta ora camminiamo un po come solito il video sarà composto da un po di video un po di foto un po misto ciao ciao il percorso di oggi è abbastanza easy e semplice come dicevo siamo sui colli uganei spasopiano strada carareccia lo stiamo facendo perché ci stiamo preparando per la nostra grande impresa invernale che per quest'anno è la scozia i nostri zaini sono quelli da scozia non vi dico il peso perché se non vi prendete paura è completamente in autonomia quindi abbiamo cibo per otto giorni e quindi siccome la scozia avrà questi percorsi farsi piano su e giù non troppo pendenti la scelta la scelta ricaduta sui su questo tipo di di percorsi in questo periodo proprio per per allenarsi sta accendendo anche un po di sole un po di sole si comincia il pallugo qua, cosa? no, non è che te, non lo metto bene no, pati, siamo riusciti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, siamo arrivati al bivio, abbiamo girato a sinistra, abbiamo preso il sentiero 2, nonché parte integrante della nostra via dei coagli urbani. E ora ci accingiamo a tornare alla base. Cosa è secondo te questo? Ah, non c'entra. Ed eccoci, giunti al termine. Abbiamo fatto il nostro giretto di anno. Qui si conclude il nostro giro di oggi. È stato un giro molto easy, molto semplice. Niente di eccezionale, ma per la nostra satisfazione andava più che bene. Con questo è tutto e vi saluto.